Pasquale Rosania, un finale di competizione elettorale piuttosto caldo con il vostro candidato a sindaco rivale che insomma non ha accettato un faccia a faccia con Maria Teresa Collica. Quali sono le sue opinioni su questa faccenda? Sì, noi abbiamo più volte anche tramite i social network appunto invitato la controparte ad avere con noi un confronto diretto appunto magari con tutta la squadra assessoriale dato che noi siamo perfettamente convinti del fatto che dal momento che la squadra a questo punto al ballottaggio al completo grazie all'ultima legge elettorale può presentarsi alla cittadinanza proponendo il proprio progetto per la città ritenevamo se non altro auspicabile che i cittadini potessero farsi un'idea di quali fossero le proposte in campo di quali fossero i due modelli che immaginiamo per la città e quindi proprio per questo ci siamo lanciati in una serie di proposte che però non sono state raccolte ovviamente noi rispettiamo la scelta fatta dai nostri avversari in questa fase è chiaro però che anche questo concorre in qualche modo a dare ai cittadini un'idea di quello che li si propone per questo ballottaggio Senta, mandando Maria Teresa Colli che al ballottaggio la città di fatto ha respinto l'ipotesi della sfiducia il promotore della sfiducia ha raccolto un bottino di voti abbastanza misero quindi a posteriore quali sono le sue considerazioni su quella sfiducia? Sicuramente sulla sfiducia in generale è chiaro che questo sì sicuramente rappresenta se non altro la negazione di quella percezione di bocciatura che era stata diciamo così manifestata nella fase preliminare alla sfiducia vera e propria però per quanto riguarda il giudizio su Sottile in particolar modo io non mi sento di fare alcuna considerazione in termini negativi perché comunque ha avuto una coerenza politica per parte sua che gli va assolutamente riconosciuta anzi io immaginavo che a quel punto la candidatura naturale di un centro-destra sarebbe stata proprio quella di Giuseppe Sottile come leader di quella parte politica dal momento che noi comunque stiamo dando un segnale anche di rinnovamento politico probabilmente un passaggio di questo genere cioè con Sottile a capo dello schieramento avversario molto probabilmente avrebbe rappresentato anche per Barcellona il confronto fra due modelli assolutamente nuovi rispetto alle scorse generazioni ma questo non per un preteso nuovismo o perché una scelta generazionale di un certo tipo significhi qualche cosa. Io ovviamente parlo sempre con rispetto alle idee che una coalizione politica può portare rispetto alle esigenze della città. Senta, domenica scorsa è andata in scena qui a Barcellona una kermesse che è stata molto apprezzata da tutti credo che Nessun Dorma in cui la città è stata letteralmente presa d'assalto anche da visitatori da persone venute da fuori che hanno goduto di queste iniziative soprattutto musicali lei crede che queste kermesse, queste iniziative siano da ripetere per una Barcellona sempre più giovane sempre più svecchiata nelle sue attrattive? Sì, assolutamente sì. Quella del Nessun Dorma è stata veramente un'esperienza bellissima tra l'altro prodotta proprio da chi in questa fase a Barcellona sta producendo una rivoluzione che non parte tanto da scelte politiche, da una scelta politica piuttosto che dall'altra quanto proprio dal rinnovato dinamismo che questa città in questa fase sta vivendo e devo dire io lo noto in pratica quotidianamente dagli ultimi tempi e con il fiorire in questa fase appunto di una serie di imprese, di locali che in questa fase stanno vedendo la luce grazie a una serie di testardi, coraggiosissimi ragazzi che tra l'altro ho il piacere di conoscere un po' tutti e appunto anche per questo io rientro in qualche modo in quello che attiene proprio all'idea che mi sto facendo della città, di quello che dovrebbe essere secondo me la città e cioè quella di una separazione sostanzialmente ideale fra la parte diurna della giornata barcellonese che si dovrebbe svolgere secondo me nella ex pescheria favorendo sia l'aspetto dello svago sia quello formativo con la formazione di appunto tutti gli strumenti necessari per la parte giovanile della città e poi invece quest'altra bellissima realtà che è attiva soprattutto nella fase diurna e che ha avuto il suo tripudio per così dire nel nessun dorma ma che ormai è una realtà consolidata a Barcellona e che noi miriamo a incentivare sempre di più. Senta, di fatto la collica è a un passo dall'impresa perché a Barcellona non era mai successo che un sindaco sfiduciato fosse poi in Lizza all'elezione immediatamente successiva per tornare sullo scranno più alto di Palazzo Longano voi eventualmente appunto le cose andassero bene per la collica siete chiamati a un compito abbastanza nuovo e abbastanza impegnativo lei cosa ha in carnet eventualmente per i primissimi tempi del suo assessorato? Sì, io proprio oggi mi sono espresso con una piccola nota che ho fatto circolare su Facebook chiaro che ancora noi non abbiamo definito quali debbano essere esattamente le deleghe lei sa benissimo ovviamente che ormai la riduzione a sei degli assessori già dalla scorsa legislatura ha comportato la somma sulle spalle di un solo assessore di una serie di deleghe. È chiaro che io immagino che dovrò avere particolare riguardo appunto per le politiche giovanili e proprio in questo ambito io ho voluto rilevare soprattutto l'aspetto che dicevo prima cioè quello che secondo me responsabilità di questa amministrazione innanzitutto è incentivare il nuovo fermento a cui si assiste in città ma anche e soprattutto cercare di intervenire nel tessuto socio-economico barcellonese perché noi viviamo in una realtà in cui la disoccupazione a livelli inauditi e soprattutto ovviamente a livello giovanile assistiamo a una emorragia e io ne sono diretto testimone perché io sono rimasto ma tantissimi amici e compagni e anche di esperienze politiche per esempio sono dovuti alla fine partire e noi rispetto a questa generazione abbiamo necessariamente l'obbligo di dare delle risposte quanto più possibile tempestive e lo dobbiamo fare inventando le cose e quindi anche qui per esempio la scelta di una serie di assessori a parte me ovviamente che sono perfettamente in grado di mettere in campo strumenti nuovi capaci appunto di creare l'incentivazione per esempio all'invenzione, allo start up, alla progettazione europea alla messa in campo in rete del discorso della partnership europea ora sono usciti nuovi bandi, sono tutta una serie di strumenti che noi abbiamo intenzione di mettere in campo sin da subito ma d'altronde è anche la prosecuzione di un lavoro che già era stato iniziato e di cui si stanno cominciando a vedere gli effetti e sicuramente con la rinnovata situazione anche economica del Comune noi saremo in grado di sviluppare ulteriormente. Una domanda secca per chiudere, le sarebbe piaciuto fare un confronto con gli assessori disegnati all'altra parte? Assolutamente sì. Questo secondo lei perché non è accaduto? Non voglio dare giudizi personali, io penso che si sia semplicemente scelta una strategia comunicativa che io spero, auspico dal mio punto di vista che poi non risulti perdente per parte loro ma che rispetto assolutamente. Grazie.